E' con tutto il mio cuore che posso dirvi benvenuti a mia sposa. Dopo due anni ha vinto la gente, perché la gente aveva voglia di uscire, aveva voglia di farsi conoscere, aveva voglia di parlare e aveva voglia di ritornare alla normalità. E finalmente ci siamo riusciti. Grazie a mia sposa, che essendo la prima fiera in presenza, ha riunito oltre 120 aziende in 8.000 metri quadri di esposizione, per dire che il sì esiste ancora, ed esiste ancora la famiglia. E siamo orgogliosi di tutto quello che abbiamo fatto. Orgogliosi, perché amare è la cosa più bella che esiste al mondo. E noi amiamo mia sposa, ed è per questo che vi dico che amore sia. Vantiamo di 40 auto di brand prestigiosi a livello internazionale, anche mondiale direi, come Rolls Royce, Bentley, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini e tantissimi altri brand. Oltre al wedding c'è il noleggio a breve termine, quindi senza conducente, per vivere un'esperienza di lusso a 360 gradi. E non solo auto, anche perché la nostra azienda offre anche servizi di lusso nel mondo dei yacht service, quindi di imbarcazioni di lusso, jet service, transfer di lusso a 360 gradi. E non solo auto, anche per vivere un'esperienza di lusso a 360 gradi. E non solo auto, anche per vivere un'esperienza di lusso a 360 gradi. ... ... ... ... Grazie a tutti.